salvo a tutti i giocatori e benvenuti con un nostro nuovo video oggi andremo a fare il piccolo upgrade del green red sempre dello starter kit un upgrade molto 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 semplice anche perché poi il mazzo essendo un rosso verde deve essere abbastanza veloce e mana budget ce ne stanno pochi di solito su questo tipo di massi o vai verde o vai rosso per la mia modesta opinione perché sei molto più rapido però andiamo a vedere comunque un piccolo upgrade per chi è interessato ovviamente sempre molto economico prima di iniziare come sempre mi invito a scrivermi il nostro anale per rimanere sempre aggiornati con il mondo di gioco e non solo grazie mille e andiamo a vedere le carte allora e quattro perde all'ascendante pit leader costo 1 2 1 quando entra nel campo di battaglia se abbiamo un permanente con costo di mana 4 superiore guadagli al segno 1 più 1 più 1 e ogni qualvolta castiamo una spell con costo di mana 4 superiore prende un segno 1 più 1 quindi è una partenza molto rapida che può pomparsi unlucky winness col fatto che il mazzo pesca poco può essere un'ottima soluzione perché quando muore esiliamo le prime due carte del mazzo e possiamo giocarle fino alla fine del nostro prossimo turno molto forte vuol dare nel stinger fortissima perché è una piccola partenza molto interessante per lo standard è molto molto buona perché quando attacca ha attacco improvviso quindi molto buona si può pompare la possiamo pompare quindi ottima carta ho messo un 2 per di lui che quando entra da un segno più no più no una creatura potrebbe essere buona ma potreste anche toglierlo andate un po sentimento javi maia direttamente alla nuova espansione a costo 2 3 2 contravolgere un po come il compagno di garro come più al kick e rosso che quando la potenzia costo 1 rosso appunto guadagna un segno più 1 più 1 il mazzo ma a braccetta con i segnalini e guadagna anche rapidità quindi a costo 3 1 a 4 3 contravolgere rapidità molto molto buona topra di stomper cautela 4 4 a costo 3 entra prendi una terra base la mette in campo tappata parmi schiamo quindi ci consente di avere i mali che ci servono non può attaccare o bloccare finché non abbiamo sette terre però comunque riusciamo con lui riusciamo a mettercene potenzialmente 4 e quando può attaccare diventa fortissimo doppio ruling monk quando amminacciare quindi ci appartiamo molto bene quando attacca guardiamo la prima carta del mazzo se è una terra la possiamo calare se non è una terra e non la possiamo calare in questo modo creiamo la patina goblin attaccante 1 1 ci sono tantissime carte ovviamente multicolore così nel senso verde rosso molto buone però al momento ho deciso tranquillamente di mettere solo lui proprio molto semplice e thunder king rai giù thunder ring rai giù che è una delle carte più forti rapidità 3 3 costo 4 con attacca mette un segno più 1 più 1 su una creatura e dopo per perde un danno per ogni creato per ogni altra creatura con un segno un segnalino più 1 più 1 quindi con più come mi permette addirittura di chiudere senza neanche fare il danno da battaglia poi strangola costo un infigio 3 danni a una creatura un po le soccer e line strike che è tornato tranquillamente al costo 2 infigio 3 danni una qualsiasi è un qualsiasi bersaglio poi il 3 per di sticky fingers perché comunque è molto buono la creatura è equipaggiata a minacciare quindi può essere bloccato soltanto da due o più creature e quando è officinando creiamo un trisur token che lo tappi spacchi aggiungi un mano di qualsiasi colore che potrebbe essere fondamentale nel mazzo poi 9 foreste 9 montagne e 4 doppia terra non ho messo troppe doppie terre perché vanno tutte tappate con le budget e potrebbe essere molto complicato proseguire andiamo a vedere qualche cartina potrebbe essere messa nel mazzo for the family una creatura guadagna più due più due fino alla fine del turno se controlliamo quattro o più creatore la creatura volende più 4 più 4 un altro di lui e potrebbe essere buono upgrade che infligge 3 danni una creatura spacca artefatto il price fight una creatura lotta con un'altra creatura e creiamo un trisur token potrebbe essere buono perché comunque notare ci permette di spaccare creatura dell'oppo e creare ci sotto per potrebbe essere un'ottima cosa altre due tim bella guida e se vuole dimetterlo e la gigwelf tiff lei in realtà e la uso tantissimo in pauper e in pioneer perché la gioco a turno due avere una 3 3 con cautela tra voglio era turno due che ci crea anche un ciri sul token è veramente buono il standard è un po più lenta molto più lenta però potrebbe essere una soluzione budget interessante detto questo ragazzi fatemi sapere voi cosa pensate noi come sempre ci vediamo nel prossimo video e un saluto a tutti